La frattispecie saremo in diretta sia su Instagram che su Facebook con i nostri amici di Progetto ASEA. Mi sentite bene? Ok, io sento un po' di eco. Quale può essere il problema? Prova adesso. Ok, perfetto, molto meglio. Allora, chiedo anche ai miei amici su Facebook, ai nostri amici su Facebook, se ci vedono. Siamo connessi sia su Instagram che su Facebook. Siamo connessi dall'altra parte del mondo. In questo momento siamo in diretta con Salvador De Bahia, con Marco e Cesare, cofondatori del Progetto ASEA. Che cos'è il Progetto ASEA? Bella domanda, chiediamogli la loro. Chi è che risponde per primo? Posso rispondere io? Sono Cesare. Ciao Cesare. Benvenuti e benvenuti a tutti a questa conversazione. Progetto ASEA nasce 30 anni fa, il 2 giugno 1990, in Brasile, nella città di Salvador, capitale dello Stato di Bahia. Nasce ed è battezzato con un nome che non è portoghese. ASEA è un'espressione della lingua africana yorubà, portata dagli schiavi sulle coste del Brasile durante 250 anni di schiavitù. ASEA vuol dire energia positiva, ma non soltanto questo. È quell'energia che al tempo stesso è energia e realtà. Si dice ASEA e le cose succedono e l'augurio si concretizza. Per cui ho dato questo nome al progetto ASEA, non soltanto per rendere un doveroso omaggio alla religiosità e alla cultura afro-brasiliana, che in Salvador conosce attualmente la sua concretizzazione più autentica e al tempo stesso più numerosa. Ma soprattutto per dare l'idea che questo progetto voleva prestare un servizio a quelli che sono i valori fondamentali di qualsiasi nazione, ossia i bambini e le bambine. Ma Israe, scusami se ti interrompo prematuramente, però voglio farti subito un domandone che magari ti risulterà banale, però non abbiamo ancora detto, almeno se non sbaglio, dove siamo collocati geograficamente, perché Salvador de Bahia è in Brasile, correggimi. Evidentemente che sì. Io all'inizio avevo detto che Salvador era la capitale dello stato di Bahia, in Brasile, nel nord-est brasiliano. Salvador è la porta dell'area geografica brasiliana più depressa, che è il nord-est, al tempo stesso più ricca di cultura, di manifestazioni artistiche e culturali. Bahia, come ci insegna il grande scrittore baiano Giorgio Amado, è l'unico stato, l'unica denominazione che al tempo stesso vuol dire la capitale, la città, Salvador, e lo stato. Quindi quando diciamo Bahia, stiamo dicendo al tempo stesso lo stato di Bahia e la capitale di questo stato. E' interessante sapere che storicamente Salvador è stata la prima capitale del Brasile. Oggi la capitale di Bahia, Vigal. No, 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 ho detto semplicemente un'esclamazione di stupore, non pensavo fosse stata anche la capitale del Brasile. Sì, la prima capitale del Brasile e Salvador ha questo nome perché è considerata la città dove i brasiliani prestano la loro religiosità a Gesù Cristo, che qui è chiamato il Signore di un buon fine, il Signore della buona fine. E al tempo stesso perché si chiama Bahia? Bahia perché ha un golfo, il secondo golfo più grande del mondo, un golfo marino, che quando è stata per la prima volta raggiunta da navigatori europei, loro si sono accorti che era così grande che sembrava quasi l'ingresso di un fiume. Lo stesso equivoco che i navigatori hanno commesso a Rio de Janeiro quando entrarono nella Bahia di Guanabara e pensavano che si trattasse di un fiume. Era il mese di gennaio e chiamarono quel posto fiume di gennaio, Rio de Janeiro. La Bahia di, fu chiamata Bahia di Todos os Santos da Amerigo Vespucci che al tempo stesso voleva mettere in evidenza l'arrivo della flotta che era il primo novembre e mettere in evidenza anche l'importanza che i santi avevano per la famiglia Vespucci a Firenze. Tanto è vero che ancora esiste una chiesa a Firenze che si chiama di Ogni e Santi dove c'è un affresco che rappresenta la famiglia Vespucci tutta che erano i protettori di questa chiesa. Per cui la Bahia di Todos os Santos, Bahia di tutti i Santi, Bahia del Paradiso anche perché era straordinariamente bella. Ma toglimi una curiosità, hai già chiamato in causa due o tre elementi che se non sbaglio si intrecciano un po' con la tua vita perché anche tu sei originario di Firenze. Anche io sono fiorentino, figlio di genitori napoletani. Anche tu in qualche modo sei indicatore che è arrivato in Brasile senza avere ben chiaro che cosa aspettarsi dal Brasile appunto. Io sono venuto in Brasile nel 68 con un gruppo di fiorentini per un viaggio di tre settimane in Amazzonia. Per cui siamo andati direttamente a Manaus e lì siamo rimasti, vivendo in una favella, condividendo con le persone la loro maniera di vivere e facendo quel poco che potevamo fare non conoscendo minimamente né le necessità né la cultura di quella comunità. Io sono rimasto profondamente colpito dalla fisionomia di quella popolazione, dalla maniera come queste persone si relazionavano tra di loro e con noi stranieri che eravamo appena arrivati, dalla dolcezza con cui i bambini erano trattati dagli adulti. Ho sentito immediatamente che il bambino, perlomeno in quella città dove io ero, non potevo a quell'epoca dire per il Brasile perché non conoscevo il retto del Brasile, ma in quel momento ho sentito che per quella regione amazzonica il bambino era veramente un grande valore. E di che anni stiamo parlando? Scusami. 68. Nel 68. E quindi tu sei arrivato lì e da lì poi non ti sei più spostato. Quando i miei 18 compagni si sono preparati a ritornare in Italia dopo tre settimane, io ho maturato una decisione personalissima, individuale. Sono andato dal presidente del centro sociale che ci aveva accolto e gli ho chiesto se io rimanessi qui ci sarebbe qualcosa da fare per me. Lui mi rispose c'è molto da fare, quindi se vuoi rimanere puoi. Quando i miei compagni sono partiti io sono rimasto e da tre settimane sono passato una vita in Brasile, in varie regioni del Brasile, di 53 anni. Quando ci siamo sentiti per la prima volta l'altro giorno mi hai detto che parlare di Brasile vuol dire tutto e niente. Brasile è l'equivalente di un continente. Che tipo di situazione hai trovato lì esattamente a Salvador del Bahia? Quando sono venuto a Salvador avevo più di trent'anni in Brasile perché già avevo avuto altre esperienze lavorative oltre i dodici anni a Manaus dove ho cominciato a lavorare con i bambini di quella favella, di quella comunità. A Salvador già avevo una certa conoscenza del Brasile perché avevo lavorato vari anni per l'organo internazionale UNICEF che è l'Agenzia delle Nazioni Unite per il benessere del bambino. e quindi avevo conosciuto quasi tutti gli stati del Brasile che sono 27 più il distretto federale di Brasilia che è la capitale federale del Brasile. A Salvador ho incontrato questa situazione per rispondere alla sua domanda. Ho trovato una città la più nera delle città che hanno accolto la diaspora nera fondata praticamente dagli schiavi perché i portoghesi naturalmente l'hanno fondata ma con il lavoro degli schiavi che già lavoravano nelle piantagioni prima di cotone e poi di caffè dello stato di Bahia. Ma tutta la capitale aveva una fisionomia architettonica totalmente coloniale come le città portoghese, spagnole e alcune anche italiane. Per cui questo incontro è stato con la maggior popolazione nera che io potessi immaginare. Poi dopo ho imparato anche qual è la percentuale di neri nella città di Salvador dove vivono 3 milioni di abitanti. 87% sono discendenti neri. L'87%? Esattamente. L'87% tra neri. Poi qui si fanno quelle distinzioni che a me non piacciono molto come neri, mulatti, misturati eccetera. Io sono tutti neri che è la caratteristica fondamentale di questa città a cui la cultura, la maniera di vivere, l'essere nero ha conferito a questa città. oggi è la capitale della negritudine mondiale. Ma quindi... Caetano Veloso, che poi è di qua a Salvador, l'ha chiamata la Roma nera in una delle sue canzoni. E perché? Proprio per l'espressione artistica? Anche sia per l'espressione artistica ma anche e forse soprattutto l'importanza culturale e l'importanza anche religiosa nel tenere nel mondo, tenere e mantenere, preservare questa tradizione religiosa del candomblé. Quindi qui ci sono tutti dei africani che sono arrivati qua con gli africani che poi erano liberi e sono stati schiavisati e qua si mantiene questa tradizione. Per questo anche rispetto al fatto che Roma è il centro della cristianità e Salvador è in un certo modo il centro della cultura religiosa africana nel mondo. Veramente? Ma Caetano Veloso, se non sbaglio, è questo qua che vedete nella foto, corretto? Sì, è un nostro amico. E questi siete voi due? Certo. Di che anno era questa foto più o meno? Qualche anno fa, credo tre anni fa più o meno. Ok, ok. Quindi tornando a noi, questo è un po' il contesto storico, culturale, sociale in cui Cesare si è arrivato e in questo contesto c'è una dimensione legata alla vita dei bambini in estrema povertà. Correggimi se sbaglio. Ma come sono arrivato a questo? perché alla fine degli anni 80-89 circa io decido di separarmi dalle Nazioni Unite, di dimettermi e stavo pensando di rimanere in Brasile o tornare in Italia quando ho avuto un incontro con i rappresentanti di un'organizzazione italiana di cooperazione internazionale non governativa che si chiama Terra Nuova e che ha sede a Roma. In quell'anno Terra Nuova stava aprendo nella città di Salvador il suo ufficio di rappresentanza in Brasile. avendo deciso di finanziare qualche progetto che potesse cominciare a dare risposte a quel fenomeno che in quell'epoca si chiamavano i bambini di strada e che erano a Salvador particolarmente numerosi e sparsi nella città. loro mi hanno invitato a coordinare questo progetto per i bambini di strada finanziato da Terra Nuova ma perché prima, durante cinque anni, durante il mio lavoro a Brasile con Lubice, io avevo avuto un incontro che ha trasformato radicalmente la mia esistenza umana, professionale e sociale. L'incontro è stato con un'immensa figura straordinaria brasiliana che è il filosofo dell'educazione Paolo Credi. Paolo Fredi era stato mandato in esilio dalla dittatura militare per aver pubblicato il suo libro, il libro più straordinario che ha fatto il giro del mondo ed è stato tradotto in decine di lingue, che è stata la pedagogia dell'oppresso. Quando Paolo Fredi è ritornato in Brasile, io ero ancora il numero due dell'Unicef in Brasile, l'ho invitato per essere il consulente pedagogico dell'Unicef in Brasile e lui accettò. Per cui ho avuto molta convivenza con questo straordinario genio dell'educazione che, chiamandolo di pedagogista, lo si diminuisce moltissimo. Paolo Fredi è un filosofo dell'educazione, ha conferito alla pedagogia e all'educazione un valore filosofico e esistenziale che solo lui è stato capace di mettere in evidenza e di mettere soprattutto in marcia concretamente. Ma è questo signore che vediamo nella foto? Sì, sì, quello è Paolo. Ma puoi sintetizzarci per quanto possibile i due o tre pilastri della sua filosofia educativa? Sì, condivido con Marco questa risposta. La cosa più fondamentale è che il diritto fondamentale della persona umana, quindi del bambino, dell'essere in formazione, è l'educazione. L'educazione nel senso di partecipazione alla costruzione della propria esistenza individuale e sociale. L'educazione come momento indispensabile perché il bambino passi gradativamente da una all'altra età. Paolo Fredi aveva il potere delle sintesi. Con poche parole dire cose straordinarie. Per esempio, me ne propongo una. Educare non è mettere nella testa del bambino una serie di nozioni. Educare non è un'educazione bancaria. Nozioni che si depositano nell'educando. L'educazione è soprattutto dialogica. È un momento in cui l'educatore e l'educando si scambiano sia valori sia insegnamenti. Anche il bambino insegna perennemente all'educatore. Bellissimo. Bellissimo. Credo che, rispetto a questo che dice Cesare, una delle cose, una delle massime più conosciute, tra quelle che dicono questo in modo molto bello, è quella dove lui dice che nessuno educa nessuno. Nessuno si educa da solo. Le donne, gli uomini si educano tra di loro. Quindi al centro del discorso freiriano della proposta di educazione è la libertà. E se noi non riusciamo a dialogare e a tenere il dialogo, che lui dice che l'unica forma di capire una situazione o di cercare di… L'unica evidenza che una situazione è stata davvero dialogica è quella che quando le persone che sono lì insieme in dialogo escono da quella situazione diversa. Dopo stare insieme e parlare dove si deve per forza diventare un qualcun altro, un altro essere. Quindi il dialogo come elemento della trasformazione e della costruzione di un'educazione per la libertà, un'educazione liberatrice. Lui diceva anche molto, e questo mi sembra molto importante, perché lui diceva che quando l'educazione non è liberatrice, l'oppresso vuole soltanto diventare l'oppressore. Quindi per essere liberatrice l'educazione ha bisogno di provocare un cambiamento totale di mentalità nella struttura sociale come un tutto. È giusto per questo che lui è stato buttato via nel periodo della dittatura militare, che è anche un periodo in cui Cesari arriva qua. Per questo in questo momento sociale anche in cui viviamo, l'attuale governo sembra non rispettare o riconoscere questo sapere freileando, perché ti porta a pensare la vita in una maniera tutta diversa. Sì, quindi mi sembra di capire che dia dignità sia ai ragazzi da educare. Cioè c'è pari dignità fra l'educato e l'educatore. Sì, volevo aggiungere che nei cinque anni che Paolo Freire ha lavorato per l'Unicef a Brasilia, ho avuto tutta la possibilità di discutere con voi i fondamenti di questo progetto che avevo in testa e che era ancora senza nome. Per cui quando ho avuto la possibilità di metterlo in marcia il mio sogno era farlo realizzare in una megalopoli brasiliana come San Paolo che ha 16 milioni di abitanti o Rio de Janeiro che ne ha otto. Ma i dirigenti di Terra Nuova avevano già deciso che il progetto doveva essere concretizzato nella capitale di Bahia, nella città di Salvador. E allora io sono andato via da Brasile e sono arrivato a Salvador dove, ho già detto, sono stato colpito da quali caratteristiche. Volevo dire una cosa, che la grande fortuna, il grande dono che i primi educatori della scena rigidamente selezionati e formati hanno ricevuto è stata la formazione diretta di Paolo Freire durante alcuni anni, prima che lui scomparisse e morisse in San Paolo. Durante sei anni gli educatori della scena hanno ricevuto questo dono, di ricevere la formazione diretta di questo grande maestro. Wow, privilegio assoluto! Sì, un grandissimo privilegio. Io considero, nella mia lunghissima vita di 83 anni, considero alcuni incontri fondamentali con persone che hanno rivoluzionato la mia vita. Una di queste, senza dubbio, è Paolo Freire. Quando io lo provochei, dicendo, in questo progetto, Paolo, io volevo mettere in evidenza anche l'importanza dell'arte, della cultura. E lui disse, è questo il punto fondamentale. Scrivilo e fallo. Scrivilo e fallo. Nella prima redazione di Asset, io avevo messo soltanto un paragrafo su questo punto. Poi, tutto ciò si è sviluppato fino a diventare l'arte educazione, un pilastro, la colonna fondamentale della costruzione dell'edificio del progetto Asset. Arte ed educazione. All'inizio erano due pilastri, l'arte e l'educazione. E poi, dopo, tutti insieme, coralmente, perché io sono stato il fondatore, aiutato da Marcos, però la Asset è una costruzione corale, collettiva, che si è arricchita ogni giorno, non solo del contributo degli educatori, ma anche del contributo degli educanti. Scusami, 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 Cesare, se ti interrompo. Ma nel concreto, spiegami un attimo, cosa vuol dire fare arte ed educazione? Nel concreto, cosa vuol dire fare arte ed educazione? Prima devo spiegare che non è arte ed educazione, come stavo spiegando. Siamo arrivati al punto di avere la certezza che è impossibile educare senza l'arte, senza la cultura, senza la bellezza. Sia l'arte sia l'educazione hanno la loro specificità, però è impossibile educare senza l'arte, per cui noi non scriviamo più arte ed educazione contrattiva. Ma un'unica parola, arte ed educazione, per mettere in evidenza questa ricchezza delle due realtà umane, l'arte e l'educazione. Se noi abbiamo oggi la capacità di poter dialogare con i bambini in qualsiasi linguaggio artistico e lì loro si siano inseriti, se noi abbiamo questa possibilità, esattamente perché ciò che ho detto è una realtà. La realtà è una realtà. La realtà è una realtà. La realtà è una realtà. Una realtà è una realtà. La realtà è una realtà. lo statuto del bambino e dell'adolescente, che nell'85 è stato approvato dal nuovo governo, il primo governo democratico. Nell'88 è stata approvata, Marco si sta ricordando, e nel 90 lo statuto del bambino e dell'adolescente. Questo ha rivoluzionato le politiche pubbliche che in quel tempo esistevano per dare una risposta concreta e competente ai diritti dei bambini, degli adolescenti e dei giovani. In quel tempo si diceva, come lo statuto dice, e lo dice anche la Costituzione brasiliana, che il bambino è un soggetto di diritti. Non è più oggetto dell'attenzione dello Stato e della società, ma è lui il soggetto dei diritti che gli competono. alla CE abbiamo allargato questa soggettività e da una monosoggettività l'abbiamo fatto diventare una triplice soggettività. Il bambino è sì soggetto di diritti, ma è anche soggetto di conoscenza e soggetto di desiderio. Questo per dire, per introdurre rapidamente, ma ci vorrebbero molte ore per spiegarla, la pedagogia della CE che ha un nome specifico e una sua specificità che è la pedagogia del desiderio. Dei cui contenuti teorici, Marcos è il più importante autore perché, oltre ad essere educatore, è anche psicanalista. E attraverso il concetto di desiderio di Freud e di Jacques Lacan siamo arrivati al desiderio del bambino e alla pedagogia del desiderio. Perché, come Lacan ci insegna, soltanto il cadavere non ha desiderio. Il desiderio è la forza, l'energia sempre presente in qualsiasi essere umano. È quello che gli permette anche di realizzare ciò che sono comunemente chiamati dei desideri, ma che a volte sono confusi con le necessità. Il desiderio, Marcos lo spiega brillantemente, il desiderio permette all'essere umano praticamente di esistere. Da quando è nato, fin quando termina la sua traiettoria terribile. Tu avevi chiesto un po' prima nel concreto che cosa è fare arte educazione. Allora, credo che la prima cosa è tornare un po' a quello che diceva Cesare. L'arte è educazione, non è che viene usata per educare. Quindi, il primo modo di capire questo nella pratica è una grossa parte del lavoro degli nostri educatori, dei nostri arti educatori, è quella di vivere l'arte insieme con i nostri ragazzi. Vivere l'arte insieme vuol dire non fare arte per loro, però mettere l'arte come un elemento che può essere allo stesso tempo, tornando alla triplice soggettività, dal momento in cui ci incontriamo nella strada con loro, che l'arte diventi sia un oggetto di desiderio, sia un diritto fondamentale dei ragazzi, sia un oggetto di conoscenza. Quindi, andare in strada, per esempio, noi abbiamo, per andare a un aneddoto e un esempio molto concreto, noi abbiamo un pullman, che è un'unità mobile che circola nella città di Salvador. Noi abbiamo ridisegnato questo pullman per far diventare un spazio, in tutti i sensi, un spazio dove l'arte si muove nella città. Per esempio, tutto il pullman è decorato con opere di arte, quindi è come se fosse un'esposizione, un museo in cammino, in strada. Poi lì dentro possiamo fare un sacco di cose, può diventare anche un palco, possiamo fare degli spettacoli, possiamo disegnare, possiamo fare arte visibile. E questo è l'elemento fondamentale del nostro lavoro, vivere l'arte insieme ai ragazzi. E nel vivere l'arte, fa il suo lavoro, sia rispetto a loro, sia rispetto a noi stessi. Perché i nostri ascoltatori capiscono ancora meglio il concetto che Marcos ha appena spiegato, io considero questo onnibus che si chiama Asche Busu. Busu è la maniera deformata con che i bambini pronunciano il nome onnibus, autobus. Asche Busu è l'autobus dell'Asche. Come è che io lo definisco? Prestando, rubando e prendendo in prestito l'espressione di Tennessee Williams, io lo definisco un onnibus chiamato Desiderio. Parafrasando la pièce di Williams, che poi è diventato un film famosissimo, un tram chiamato Desiderio. Questo onnibus chiamato Desiderio stimola, passando per le strade di Salvador, non solo la curiosità, ma anche il più profondo desiderio di grandi e piccini che incontrano questo strumento. Queste sono foto del carnavale di quest'anno, quando abbiamo fatto una partecipazione nell'apertura del carnavale di Daniela Mercuri. Queste sono parti del gruppo di ballerini, perché poi una volta che il lavoro in strada succede, che si comincia questo dialogo ed educativo in strada, il risultato è che abbiamo delle attività di formazione nell'area del linguaggio artistico, della musica, della danza, della capoeira e delle arti visive. Questi qua sono ragazzi della musica. Ma quindi scusami se ti interrompo, vuol dire che andate in strada ad insegnare la musica ai ragazzi che sono in strada? Allora, andiamo in strada per esempio a fare musica con i ragazzi, però l'educazione non finisce in strada. Il lavoro in strada è il momento in cui noi vogliamo riconnettere i ragazzi con il loro desiderio. Diciamo che a volte succede nella vita che il soggetto non è che non ha più desiderio, però è un po' incasinato nel rapporto con questo desiderio. E la vita in strada a volte provoca questo incasinamento del rapporto dei ragazzi e delle ragazze con il loro desiderio. Quindi quando entriamo con l'arte si attiva nuovamente un processo di desiderio, possiamo anche usare come metafora, un riprendere la capacità di sognare, di pensare a un futuro diverso, di pensare a una vita diversa da quella che loro erano stati condenati. Perché non è che uno va in strada perché vuole essere in strada, i ragazzi sono condenati. La vita e la presenza delle popolazioni di strada in tutto il mondo è soltanto un grosso aspetto di una cosa che possiamo chiamare in una maniera generale una necropolitica. È un modo in cui le società, lo Stato, un po' dappertutto, si organizza per far decidere chi sono i corpi che devono vivere e quelli che devono morire. Quindi la scena contro questa necropolitica va nella direzione di garantire il diritto alla vita, ma soprattutto lavorando con la bellezza e con l'arte come queste due esperienze fondanti anche del processo di desiderare. Volevo completare la spiegazione di Marco per permettere soprattutto ai nostri ascoltatori di penetrare un pochino di più in questa misteriosa ma reale realtà, non è un gioco di parole, misteriosa ma reale realtà dell'arte educazione e della pedagogia del desiderio. Ma scusa un secondo, ti interrompo subito Cesare e poi ti lascio continuare, però giusto per sintetizzare, quello che voi ci avete spiegato è che praticamente questi ragazzi che si trovano per n motivi, per strada, essendo nati e cresciuti con l'idea che siano gli ultimi degli ultimi e destinati ad essere per sempre gli ultimi degli ultimi, non hanno nessuna forma di desiderio, di ambizione. Per cui la pedagogia del desiderio nasce proprio con il concetto di stimolargli una forma di desiderio, una forma di speranza di fatto. Sì, vorrei specificare ancora meglio perché la tua considerazione mi ha fatto capire che c'è bisogno di completare. Marcos parlava della missione della Cebusù, ma molto prima della Cebusù noi abbiamo praticamente inventato una figura professionista dell'educazione che è l'educatore di strada. L'educatore di strada non va a caccia di bambini, l'educatore di strada estremamente ben preparato e formato, apre una parentesi, quando mi chiedono che cosa è necessario per fare un buon progetto di educazione, io rispondo tre cose, formazione, 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 per cui i nostri educatori attraversano un percorso formativo durante tutti i 12 mesi dell'anno, anche perché la CE non chiude mai, non ci sono le vacanze per i bambini, se noi chiudiamo loro tornano in strada. Ma abbiamo aggiunto un altro fattore al nostro lavoro, che è quello della famiglia. E qualcuno può dire, ma come i bambini di strada hanno una famiglia? Io rispondo certamente di sì, mica sono stati partoriti dall'asfalto, ce l'hanno una famiglia, hanno un'origine esistenziale, per cui noi creiamo sempre attraverso l'educatore di strada e il coordinamento dell'appoggio familiare, che è un altro strumento di lavoro, includiamo tutti i giorni le famiglie dei nostri educandi e educande. e le famiglie ricevono due tipi di appoggio da parte della CE. In un certo momento l'hanno rivendicato anche loro. I nostri figli hanno diritto all'educazione della CE. Per noi, voi che cosa fate? Per cui abbiamo inventato, con il finanziamento della conferenza dei Vescovi dell'Italia, un'attività formativa per le famiglie che chiamiamo la scuola delle mamme. Per cui una volta al mese, un sabato, noi trattiamo argomenti di formazione politica, sociale, educativa con le mamme dei nostri bambini. Volevo aggiungere un'ultima cosa a questo panorama educativo in strada. Come Marco già ha spiegato, le persone domandano ma è possibile educare in strada? E noi rispondiamo sempre, è possibile educare in strada, purché il processo educativo non si esaurisca in strada. In strada lì comincia un dialogo estremamente colorito, colorato, interessante, tra il bambino che è in strada e l'educatore che è lì. Inizialmente a provocarlo silenziosamente. Poi il dialogo fluisce. Peccato che non abbiamo tempo per poter dettagliare questo processo che è fondamentale e che ha approdato anche in questi 30 anni, ha approdato in Africa, in vari paesi dell'America Latina, negli Stati Uniti e soprattutto in Italia. attraverso questa organizzazione italiana che si chiama Ascè Italia e che è diretta dal dottor Rocco Fava, che ci segue, abbiamo fatto vari momenti formativi negli ultimi 7-8 anni attraverso il lavoro di Ascè Italia. Per cui i concetti di arte educazione e pedagogia del desiderio sono conosciuti abbastanza nella città dell'Italia. E' la nazione in questo momento ci interessa di dire che è ben coinvolta in questa diffusione della pratica dell'arte educazione e della pedagogia del desiderio. Scusa se ti interrompo Cesare, stiamo vedendo nel video, spero ve lo vediate tutti, è un video che avete girato voi penso per le strade di Salvador. Abbiamo appena visto, si vede ancora qua il fermo immagine, questo ragazzo che sembra essere in una discarica e praticamente trova Giaciglio sotto terra. Riuscite un attimo a spiegarci che cos'è questa scena? Sì, questa è una cosa che succede spesso nel senso che non soltanto i ragazzi giovani ma anche tanti adulti vivono in queste zone e sia per proteggersi o anche per dormire usano questi posti in un modo di protezione proprio. Questa è una scena classica della vita in strada, questo è un gruppo di ragazzi nella zona della causada dove c'è molta povertà, anche il fenomeno dell'istruttamento sessuale infanto-giovenile dove noi abbiamo un gruppo di educatori che tutti i giorni, che poi questa è anche una cosa importante, quest'anno fa 30 anni e sono 30 anni che noi tutti i giorni andiamo in strada a incontrare, a lavorare con i ragazzi. Loro stanno facendo qua un loro percorso, è anche qua in un certo modo un modo loro di divertirsi per arrivare a quest'altro posto da lì da dove erano loro, in questa spiaggia del Cattagallo che poi è un posto molto... per andare a una fiera grossa, molto popolare, dove loro poi chiedono da mangiare o fanno piccoli servizi per cercare di fare qualche soldi per sopravvivere. e qua è il lavoro dell'unità di danza. Io volevo che Cesare raccontasse un'immagine che lui usa spesso per parlare di questo processo dalla strada al palco, che credo che come immagine che poi è basata su una situazione vera che infatti è successo e quindi però riflette molto il risultato del nostro lavoro. Poi volevo dire soltanto prima di passare la parola a lui una cosa, che in questo progetto delle mame e so per esempio che in questo momento ci sono tanti veronesi o altri italiani che ci seguono non soltanto il partnership con la CEI ma anche il partnership con la Fondazione San Zeno è molto importante perché questo partnership ha possibilitato di creare delle borse di studio e che tra l'altro in questo momento del coronavirus ci dà un'enorme possibilità di sostenere la vita e il mangiare di tutte queste persone che non possono in questo momento venire da noi. Però volevo che Cesare raccontasse un po' questa immagine e poi credo che fa un po' questo per concludere. Prima ancora di rispondere alla richiesta di Marco, volevo aggiungere che la Fondazione San Zeno di cui Marco Par ha messo in evidenza l'importanza nella Fondazione San Zeno è stato possibile ripassare l'importanza ai dirigenti della Fondazione, l'importanza del fatto formativo per i bambini. Mi sentiamo un po' male, alza anche un po' la voce forse. Stavo dicendo che l'importanza della partnership con la Fondazione San Zeno deriva anche da questa realtà, la capacità che i dirigenti di San Zeno hanno avuto e che a Scei Italia ha avuto a trasmettere dell'importanza della formazione sia degli educanti, sia degli educatori e sia delle loro famiglie. Per cui questo finanziamento di possibilità di accesso alla formazione praticamente politica, sociale, pedagogica di mamme che non hanno mai avuto l'opportunità di studiare, è una grandissima conquista di Ascei Italia una grandissima conquista di Ascei Brasile con questi finanziamenti mirati della Fondazione San Zeno che nonostante sia una delle ultime arrivate in ordine cronologico tra i partner dell'Ascei diventa ogni volta più sostanziale e molto più forte a misura che il tempo passa e che i risultati di questa partnership appaiono nella vita dei bambini. Rispondendo alla ricchezza di Marcos, i primi anni di Brasile, di Ascei, già avevamo parlato varie volte con i bambini di strada che erano piccoli artisti, già giocavano carboera, danzavano, facevano percussioni con strumenti improvvisati già avevamo cominciato a parlare di arte, di bellezza, di musica, di danza con i bambini ma senza una sistematica. Un giorno il direttore del più prestigioso teatro di Salvador, che è il teatro Castro Alves, mi telefonò dicendo «Cesaro, posso darti 50 biglietti di ingresso per uno spettacolo al teatro domani?» E lui mi chiede «Ma che spettacolo è questo?» E lui mi rispose e io mi rabbrividì, evidentemente. «E' il lago dei Cigni di Tchaikovsky». E io mi dico «com'è questo posto bambini di strada ad assistere al lago dei Cigni?» Poi mi sono ricordato che educazione è soprattutto capacità di osare. Mi sono messo insieme con i 4-5 miei collaboratori dell'epoca e abbiamo deciso di portare i 50 bambini. Sporchi, con i sandali havaiani, di plastica, con camicette approssime. Ci vanno di moda adesso? Non abbiamo fantasiati di bambini della classe media. Li ho portati così come vivono in strada. Eravamo tutti tremando quando il palco, quando il sipario cominciò ad aprirsi. Io avevo il terrore che i bambini si scorciassero, si annoiassero e cominciassero a movimentarsi nel teatro o che si addormentassero. Nessuna delle mie tragiche previsioni si realizzò. Appena il sipario si aprì, alle prime note dell'orchestra e ai primi movimenti dei ballerini furono letteralmente rapiti da ciò che succedeva sul palco. Fantastico. Per chiudere, perché poi ci sono stati vari scambi negli intervalli, ma alla fine, come sempre facciamo, ci siamo seduti sul marciapiede e abbiamo scambiato idee su cosa avevano sentito i bambini e le bambine durante la presentazione. E a un certo momento una bambina, io dico che la donna è sempre più osata, coraggiosa, ma anche più intelligente di noi uomini, una bambina disse Cesare, Cesare, perché no anche noi, ossia perché anche noi non possiamo diventare ballerini classici? Mi amici e mie amiche, io con tutta la mia esperienza di educatore non mai avevo pensato di poter scambiare i sandali di plastica dei bambini di strada con le scarpette del balletto classico. E questo è successo. E non è nessun miracolo. È ciò che l'arte fa, che la bellezza fa. Io non mi stanco mai di invocare con i miei compagni e compagni di lavoro la bellezza nel nostro fare educazione. Bellezza come un diritto fondamentale dell'essere umano. La bellezza che scaturisce dall'arte, dalla cultura, dalla musica, dalla danza, dalla pittura, sono tutti linguaggi artistici che noi utilizziamo nelle nostre unità di accoglienza dei bambini. E prima di terminare voi ci avvisate quando… No, no, infatti Cesare, Cesare, scusa un secondo, proprio un secondo, eh. Un secondo, eh. Allora, facciamo così, allunghiamo di dieci minuti la diretta. Però vi chiedo, mentre su Facebook non abbiamo nessun problema, possiamo andare avanti dritti, Marcos, io adesso metto giù su Instagram e ti chiedo di ritornare, come hai fatto prima, in diretta, solo su Instagram. Ok? Solo su Facebook. No, no, Facebook non tocchiamo neanche, rimane così com'è e andiamo avanti. Però, siccome Instagram adesso cade la linea, facciamo di nuovo per Instagram lo stesso iter che abbiamo fatto all'inizio, un'ora fa. Così ritorniamo di nuovo in diretta anche su Instagram. No, no, perché… No, no, sono solo due. Ok. Ok. Ok, ho capito. Allora, come prima, guarda, io adesso metto giù su Instagram e la ricomincio e tu vedrai Salmon Magazine in diretta di nuovo e fai come prima. Ok, va benissimo. Ok. Ok. Si ricolleghiamo, chi c'è su Instagram si riconnetta per un secondo. Eccoci, ne fa tempo se siete connessi su Facebook, siamo ancora attivi, dateci solo un attimo che riprendiamo anche la connessione su Instagram. I potenti mezzi su Instagram, i potenti mezzi da tecnologia di oggi si basano ancora sulla creatività e sull'artigianato. Ok, ricominciamo la diretta, guarda che Marcos e Cesare siete in diretta ancora su Facebook. eccoci di nuovo, siamo qua. Eccoci di nuovo, siamo qua. Prego. Grande Marcos, devo andare veramente velocissimo nel riconnettersi ad Instagram. Eccoci di nuovo, siamo qua. Allora, potete pure andare avanti su quello che stavate dicendo. Esatto, volevo che Cesare finisse anche un po' questa storia e questo aspetto della bellezza, perché in questi ultimi giorni lui ha scritto un testo che era un testo per le mame di Asher e lui fa un ribaltamento, una riflessione anche molto importante che mi piacerebbe che lui compartisse. Marco mi chiede di riscattare un momento storico fondamentale, non soltanto nel percorso di Asher, ma soprattutto nella convinzione che noi abbiamo della fondamentale importanza dell'arte, della bellezza, della cultura, nel processo educativo. Siamo ai primi anni del progetto Asher, pochi educatori in strada... Non ho capito niente, cancellate il bello della diretta. Non ho capito niente, non. Non ho pensato niente. Non ho capito niente, non ho capito niente. Come, scusa? Come scusa? Non ho capito niente. Non ho capito niente, ho capito niente. Non ho capito niente, non ha capito niente, perché lui pensava che doveva ripitere tutte quelle storie dall'inizio. ah no 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 non è mai finita la diretta praticamente non è mai finita la diretta voi dovete sapere che io sono analfabeto in tutti i linguaggi orribili, tecnologici che non so neanche come sedermi di fronte a uno schermo per cui se non sono ben collocato in sintonia con quello che voi volete faccio ciò che non so non preoccuparti non preoccuparti Cesare non è nulla di così fondamentale mentre Cesare raccontava quel momento lì del teatro volevo riprendere delle cose che lui ha detto prima e che ha a che vedere con i principi di Asher per esempio questo è un esempio sia che fa capire la genesi, l'origine dell'arte educazione in Asher la genesi dell'arte come desiderio e dell'arte essendo educazione ma soprattutto qualcosa che diceva Cesare prima i veri educatori e quell'aspetto dialogico di cui parlava Paolo sono i ragazzi perché sono loro è quella bambina che ti ha detto e che ha fatto capire qual era la strada che dovevamo fare e poi subito lui ha cominciato a parlare a fare una sintesi dell'importanza della bellezza però lui in questi giorni ha scritto qualcosa che mi piacerebbe che lui anche compartisse qua perché ha proprio a che vedere con questa dimensione è importante per noi anche in questo momento soprattutto in questi momenti della bruttezza del coronavirus giusto, vai vai Cesare ok io durante tutti questi anni non ho mai smesso di ricordare ai miei arte educatori che sono tutti evidentemente tutti siamo arte educatori una affermazione di Dostoevsky solo la bellezza salverà il mondo però recentemente ho avuto un'intuizione che ho offerto in riflessione ai miei compagni e ai miei compagni di lavoro l'intuizione è questa se è vero che solo la bellezza salverà il mondo ma chi salverà la bellezza? e allora ho ribaltato l'affermazione di Dostoevsky e ho detto gli uomini e le donne salveranno la bellezza il mondo salverà la bellezza e questo è fondamentale per chi crede fermamente che si ha il diritto di vivere qualsiasi tipo sia la nostra vita di qualsiasi tipo di qualsiasi estrazione sociale noi siamo che tutti hanno il diritto di partecipare all'opera di salvezza della bellezza ossia il diritto e il dovere del mondo salverà la bellezza bellissimo ascolta ascoltate anzi intanto volevo dire che se tra gli ascoltatori c'è qualcuno che vuole fare domande volentieri le giriamo ai nostri ospiti della diretta magari vi chiedo per favore di scrivere in italiano perché il portoghese non lo capisco approfitto per dire che ci sono tanti che vi salutano con tanto affetto vedo che Gianna Manelli vi saluta ci sta ascoltando con una grande attenzione e invece volevo farvi una domanda io anche per il tipo di studi che ho fatto ho trovato in diversi dei vostri punti che voi ci avete raccontato dei riferimenti a uno dei personaggi che qui in assoluto secondo me significativi del novecento Bruno Munari non so se lo conoscete Bruno Munari Munari l'artista? sì 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 ecco beh tanti dei riferimenti a cui ci avete fatto mi ricordano l'attività di Bruno Munari detto questo la mia domanda era in Italia quali sono diciamo i grandi protagonisti e portatori di un messaggio tipo simile cioè che si ispira ai principi a cui vi ispirate voi? io metterei in evidenza il grande educatore di Reggio Emilia che ha rivoluzionato il processo educativo e che ha portato l'UNESCO a definire le scuole di Reggio Emilia le più belle scuole del mondo wow a lui ha avuto un ruolo fondamentale alla luce anche di ispirazioni di Paolo Freri ha avuto il ruolo fondamentale di capovolgere anche lui il rapporto educatore educando dove il bambino è anche lui un educatore questo grande educatore Malaguzzi 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 è stato è stato Rocco a ricordarcelo secondo me io l'ho scritto anche questo in un testo della scena Malaguzzi arriva a una a un concetto che si deve necessariamente trasformare in pratica educativa in tutte le scuole del mondo che è il concetto del bambino competente ossia il bambino non è solo un ascoltatore è il primo luogo il primo e più importante educatore perché suggerisce ai suoi educatori le sue necessità arte educativa il concetto di bambino competente è un concetto fondamentale per educare che io ho usato non solo perché ho visitato varie volte le scuole di Reggio Emilia e letto i testi di Malaguzzi ma anche perché nelle mie formazioni ai nostri educatori ho sempre citato questa intuizione questa pratica di Malaguzzi di Don Milani di che anni stiamo parlando l'altro incontro fondamentale ma in quell'epoca io non ero non ero in contatto con il problema educativo in quell'epoca io avevo solo una curiosità di studente Fiorezzino di visitare la scuola di Don Milani e Don Milani è un altro riferimento fondamentale rivoluzionario nella mia maniera di intendere l'educazione ho detto che in quel tempo non ero dedicato ai problemi dell'educazione ma ciò che ho imparato con Don Milani l'ho riscattato a distanza quando mi sono tuffato totalmente a corpo pieno nelle questioni educative soprattutto per quei bambini che io li definisco così quei bambini che nessuno vuole e che noi vogliamo ma adesso va tanto di modo la Montessori qua Cesare io preferirei non parlare ma come guarda che crolla lo scerqua è un grande educativo soprattutto per la sua epoca ma a mio modestissimo giudizio ci vuole un po' di tempo per spiegare e comprendere la teoria con te solo guarda è arrivata una domanda è arrivata una domanda dal pubblico Svevav mi chiede cioè vi chiede intanto vi saluta con tanto affetto grazie e poi chiede che cosa sognate per i bambini italiani mi piacerebbe mi piacerebbe che rispondesse prima il brasiliano e poi io guarda questa è una domanda difficile nel senso io la vorrei mettere nel contesto di questa situazione del coronavirus e dire che non solo per i bambini italiani ma io davvero aspetto che per tutto il mondo un certo modo di esistenza possa possa cambiare che si possa o inventare un qualcosa di completamente nuovo o riscoprire certe cose che si sono persi a me spaventa per esempio pensare per esempio qua in Brasile la quantità di perdita che noi stiamo avendo se noi consideriamo per esempio la vita di tutti di persone anziane e di persone in un'età più avanzata io allo stesso modo in cui Cesare ha sempre valorato come molto importante anche come all'inizio lo diceva i bambini i giovani sono l'asce più importante di una società non posso neanche pensare a una società senza queste persone sagge anziane chi si prenderà cura di questi giovani chi si si occuperà di lasciarli la memoria chi si occuperà di farle capire da dove arrivano e quindi c'è credo che più che mai più che in qualsiasi altro momento noi abbiamo bisogno di reinventare un'educazione intergenerazionale che è sempre successo è sempre stata vissuta nelle comunità più semplici e che diciamo l'evoluzione più materialista più capitalista della società ha cominciato a eliminare e quindi ritrovare questo modo per rincontrarsi con i nostri anziani con i nostri vecchi con i nostri non so credo che questo è un desiderio che ho molto concretamente per tutto il mondo pensare a un'idea come diceva l'attuale presidente del Brasile che se ne importa se questi vecchi vanno via moriano l'importante è salvare l'economia non so io mi piacerebbe pensare un mondo sia per l'Italia per il Brasile dove il modello economico fosse un altro ma a proposito di covid-19 facciamo una piccola parentesi perché se no potremmo aprire un argomento infinito ma questi bambini che vivono per strada come come possono resistere in queste condizioni come la stanno vivendo anche con le forze dell'ordine le forze dell'ordine le forze dell'ordine non possono diciamo fare fare nulla nel senso che fino adesso almeno qui a Salvador non è stato nessun lockdown completo e quindi però il problema principale è che tutte queste persone che vivono in strada o sono in strada o i ragazzi con piaccia nella sua grossa maggioranza lavora non hanno le condizioni per esempio per per vivere la regola più importante di questo momento che sarebbe questo isolamento sociale e quindi noi e qui un'altra volta la partecipazione della fondazione Sanzena è molto importante stiamo cercando di offrire mezzi di protezione sia dal punto di vista igienico del loro ambiente sia dal punto di vista di igiene personale e soprattutto il basico la possibilità di avere qualcosa da mangiare il coronavirus non è uguale per tutti questa è una buddia questo forse è un qualcosa che vale per una società ricca e opulenta ma non per una società come quella brasiliana dove esistono persone ancora vivendo in strada dove esistono persone ancora che in tutta una famiglia vivono insieme nella stessa stanza e quindi è brutto tornando a una cosa che diceva Cesare all'inizio quando parlava di Salvador la città è la città più nera in Brasile ma anche la più nera dopo Lagos in Nigeria quindi è la più grossa città africana fuori dell'Africa incredibile un altro elemento importante noi abbiamo realizzato una ricerca e stavamo adesso per cominciare un secondo studio è che è molto chiaro che essere in strada ha un colore essere in strada ha un colore non ci sono bianchi in strada e quindi essere destinato a essere in strada è anche risultato di un rassismo istituzionale che è dappertutto che è qua che è in Italia quindi tornando un po' alla domanda di Sveva io sognerei bambini non classisti non rassisti non misogini io sognerei bambini che possano libertarsi e reinventare una società non patriarcale io sognerei per i bambini d'Italia ma sto sognando da 30 anni anche per i bambini brasiliani e sognerei per tutti i bambini del mondo un'educazione dove il bambino fosse riconosciuto come come elemento di un dialogo non appena non soltanto per ricevere ma anche per dare per suggerire per desiderare per i bambini italiani mi sogno dei genitori capaci di ascoltare dei professori e degli educatori capaci di ascoltare la ministra dell'educazione di italiana capace di ascoltare i desideri che molte volte silenziosamente salgono dalle dalle classi delle scuole italiane e dall'interno delle famiglie italiane ascoltiamoli questi bambini non diciamo io so di cosa questi bambini hanno bisogno non sappiamo lasciamolo dire a loro lasciamo assumere questo ruolo di protagonista limitato della sua propria educazione direi che in grandi verità ma a tal proposito mi viene da chiederti anche per chiudere per chiudere la diretta l'altro giorno quando ci siamo sentiti al telefono ti ho chiesto dopo così tanto tempo quali cambiamenti hai visto e davanti alle difficoltà che ancora oggi si ripropongono in un Brasile in cui un po' tutti sappiamo che cosa sta succedendo anche dall'alto sembra rivivere le situazioni che si speravano non si vivessero più fin dai tempi di quando arrivasti per la prima volta in Brasile per cui diciamo a distanza di tempo potrebbe anche subentrare dello scuoramento correggimi se sbaglio Cesare non solo subentra ma ti attanaglia varie volte al giorno varie volte durante il mio lavoro mi attanaglia la tentazione dello scuoramento e la tentazione di dire non c'è niente da fare ma è una tentazione e come tutte le tentazioni cattive sono tentazioni buone evidentemente eccellenti tentazioni questa è una tentazione cattiva deve essere allontanata chiaro la mia profonda delusione viene da questo abbiamo lottato per la democrazia siamo riusciti a eleggere Presidente della Repubblica in elezioni dirette siamo in un ambiente democratico innegabile di una certa libertà anche di parole ma dipende dall'attuale situazione politica del Brasile uno scadimento progressivo dei valori democratici quando c'è un Presidente della Repubblica che contro tutte le evidenze solo per prendere come esempio la situazione della pandemia contro tutte le evidenze scientifiche contro le evidenze dei grandi scienziati brasiliani che lavorano in Brasile o all'estero continua a predicare la fine dell'isolamento sociale ossia praticamente quando alcuni giornalisti mi chiesero è una rivista inglese prestigiosa pubblicò ha pubblicato settimana scorsa nella sua copertina quando gli chiedero Presidente ma con tutti questi morti che si succedono giorno per giorno lui rispose in portoghese e da i che significa e che posso fare e il titolo della rivista era En Sova interrogativa ossia quando la vita è messa sotto le scarpe sotto i piedi evidentemente c'è bisogno di una rinfrescata politica e forse anche elettorale se mi è consentito volevo dare un'ultima parola prima di chiudere certo ci sono altre domande no no vai tu dai vai tu dai c'è non è mio personale un messaggio che il mio maestro Paolo mi ha dato l'ultimo giorno in cui ci siamo incontrati prima che lui morisse eravamo all'aeroporto di Salvador e io gli avevo detto tutte le difficoltà che stavamo incontrando nel nostro lavoro con i bambini e le famiglie e lui da buon nordestino e soprattutto da grande filosofo poeta che era gli prese la camicia al collo qui con la mano sinistra e con la destra disegnò nell'aria l'idea che voleva trasmettere Cesar ha difficoltà insomma Cesare le difficoltà sono tante ma ricordati rimani sempre se vuoi vincere nella vita rimani sempre bagnato di speranza è questo che vorrei lasciare come messaggio ai nostri ascoltatori infinitamente più giovani di me e che avranno tutto il tempo di modificare le cose che non vanno bene mettete sulla finestra di casa o mettete sulla veranda una piantina tutti i giorni innaffiatela e dite questa è la pianta della mia speranza grazie bellissimo bellissimo ma infatti il progetto Asche va avanti alla grande adesso quanti siete sparsi quanti siete operativi in Brasile quanti in Italia quanti nel mondo in Italia chi deve rispondere meglio è Rocco qui in Brasile ti dico il quadro dell'Asche è questo 85 persone a tutti i livelli dagli educatori ai dirigenti agli autisti alle cuochi eccetera sono 84 persone selezionate formate continuamente e rimunerate è chiaro però che l'Asche ha influenzato le politiche pubbliche non solo dello stato di Bahia e della città di Salvador ma di moltissimi municipi che hanno adottato la pedagogia del desiderio e l'arte educazione in Brasile in Italia so che sono varie centinaia che stanno lavorando con questi strumenti per alcune decine di città Beh e quindi insomma è la dimostrazione che gli insegnamenti che avete ricevuto da Freire e da tutte le persone che avete incontrato in questi anni non solo li avete ascoltati ma li avete messi in pratica e quindi questa speranza di cui dobbiamo bagnarci ogni giorno va praticata e portata avanti e lo state facendo e direi che se non ci sono domande ma non mi sembra o perlomeno magari ci sono in portoghese io non le ho capite comunque sia Progetto Ascè è presente sui social così come su quindi sia Facebook che Instagram e ovviamente tra i siti web di riferimento e se non avete altro da aggiungere anche voi io mi avvierei verso i saluti cosa dite Marcos Cesare cosa dite se vai Cesare scusa posso dire ancora una parolina certo è rapidissimo io quando parlo con i nostri partner non ringrazio mai perché non stanno facendo qualcosa per me ma faccio un doveroso riconoscimento della capacità che questi partner hanno di capire le vere necessità del progetto Ascè e di mettersi in cammino con noi sulla stessa lunghezza domanda è il caso ripeto della fondazione San Zeno alla quale io non mi stanco mai di riconoscere questa grande capacità che ha avuto attraverso i suoi tecnici e il suo consiglio di capire tra virgolette di comprendere e di introgettare le necessità di Ascè attraverso la presenza attraverso il camminare insieme attraverso anche concretamente di donazioni finanziarie grazie ancora a tutti guarda Cesare che c'è una tua sorella che ti sta ascoltando e ti saluta in diretta a Rosa Maria grazie io e con questa ragazzi direi che possiamo salutarci è stato io dico è stato un privilegio per noi poter ascoltare le parole di chi fa queste cose incredibili in Brasile ma non solo e ragazzi gente meditiamo meditiamo e ascoltiamo e prendiamo esempio grazie grazie mille è stato un piacere non dimenticate di prendere un bicchierino di speranza tutte le mattine grazie ciao a tutti grazie grazie grazie